trovandomi a tolmezzo con una pausa in aspettata di due ore o mi sono guardato sulla mappa e ho approfittato per provare a salire il monte a marianute tolmezzo località pisse bus nei pressi di questa pista forestale iniziamo il cae 462 in direzione del monte a marianute a 200 metri un primo bivio ben segnalato ci indica di andare sulla destra dopo 800 metri la pista forestale diventa un largo sentiero ad un chilometro entriamo in una zona addirittura recintata siamo saliti di 105 metri quindi una pendenza media del 10,5 per cento questo primo chilometro quindi assolutamente tranquillo sotto di noi tolmezzo quindi poco dopo il primo chilometro arriviamo al bivio qui con l'idea di fare un anello andiamo a sinistra troi di cia din per rientrare poi scendere da destra stiamo risalendo il grande conoide ghiaioso rivoli bianchi a quota 470 dopo un chilometro e quattro di percorrenza arriviamo grosso modo sulla cima del grande cattino ghiaioso e qui il sentiero deve decisamente di destra a destra tro di cia din qua dovrebbe iniziare la vera salita sotto di noi rivoli bianchi ovviamente sono questi sentieri che percorrono il grande conoide ghiaioso come dei rivoli appunto e che appaiono bianchi il sentiero sale decisamente impegnativo a fianco di rivoli bianchi laggiù il punto da cui siamo partiti attraversiamo un piccolo rugo e continuiamo la nostra salita sempre bella impegnativa saltissimo noi proseguiamo comodamente lungo il sentiero sempre se impegnativo compare la piana di Ilegio e sullo sfondo la valle del Butto sono salito velocino un'ora 670 metri questo è un parametro utile e ci dà la velocità la capacità di velocità ascensionale media calcolata in un'ora considerando riferimento di 400 metri a ora della persona con medie capacità questo antiestetico ripetitore dovrebbe pronunciare la vicinanza con la vetta un altro parametro importante è la pendenza media della percorrenza dalla fine di rivoli bianchi da quando è iniziata la salita sono qui esattamente due chilometri nei quali siamo saliti di 660 metri quindi 660 diviso due chilometri fa 330 o 33 c'è una salita alla perdenza del 33 per cento considerando che un sentiero mediamente viaggia tra il 10 e il 20 per questa pendenza è una pendenza direi sopra la media e comunque impegnativa la percorrenza sempre stata comunque ben evidente bella panoramica senza tratti pericolosi esposti ed ora eccoci in cima alla questa marianucca non conosco la zona però se questo potrebbe essere il dosso delle forchiane questa davanti a noi potrebbe essere la mariana e quello alle spalle sopra il lago di cavazzo il monte san simeone gli epicentri del terremoto del 1976 sotto qua nella piana l'abitato di amaro ora seguendo una rotazione oraria scendiamo lungo il sentiero per tornare a tolmezzo scendiamo per un simpatico tratto di cresta in parte alberata in parte libera siamo scesi a quota 760 il sentiero continuo qua sulla destra ma credo che qua sulla sinistra ci sia un punto panoramico su cui vale la pena fare una brevissima deviazione ecco in effetti una panchina e compare tolmezzo in effetti merita una sosta panoramica amaro lago di cavazzo ecco la cima da cui siamo scesi il monte strabutto è quello sopra tolmezzo che presenta delle ante anti estetiche antenne per cui ci abbiamo deviato sulla marianute mentre prima ho detto un'inesattezza non è questa qua avanti a sinistra la mariana ma questo è il monte san simeone con alle spalle il monte festa mentre la mariana era qua sulla sinistra meritava davvero questa sosta panoramica e ora riprendiamo la discesa che pare meno pendente rispetto a quello della salita il primo chilometro di discesa era al 29% secondo chilometro di discesa pendenza impegnativa ma non troppo mediamente al 21% perché siamo scesi di 210 metri ed ecco che stiamo per tornare alla confluenza di base siamo sul cai 462 abbiamo ultimato l'anello della marianuta in effetti la pendenza maggiore è appunto quella che abbiamo percorso in salita e quindi chi volesse fare un anello è conveniente seguire il tragitto da me percorso e fare in discesa quello un po più facile perché le parti più impegnative vanno sempre fatte salendo e ora calcando gli stessi passi del percorsi all'andata ci avviamo al punto da cui eravamo partiti ed ecco che rientriamo al punto di partenza siamo arrivati alla conclusione di questo breve ma intenso anello in cui sono salito di 780 metri lungo un percorso di 6 chilometri e 2 non abbiamo trovato acqua durante la percorrenza un anello diciamo impegnativo per pendenze ma molto bello panoramico sul sentiero ben segnato e ho già detto in parecchie non abbiamo trovato acqua ci ho messo in assetto sportivo un'ora e 55 ma credo che camminando ci vogliano quattro ore oggi sono uscito dalla mappatura enciclopedica della provincia di pordenone nulla vieta di provare altre montagne e ho sfruttato una casuale pausa di due ore per salire qua la marianutta